Mono 005, vai, moto. Il cinema d'impegno civile è ancora vivo nel nostro paese? Mi pare di aggiudicare quello che vedo al cinema, quello che vedo ai miei colleghi, penso a Diaz per esempio e penso anche a Finibellocchio, penso anche a tante altre imprese che con fatica vengono prodotte ma vengono poi applaudite e quindi in tentativo c'è. Naturalmente la tensione nei confronti del grande problema della cultura, della comunicazione di questo tipo di messaggio, di questo tipo di battito non ha vita facile soprattutto nel momento in cui viene varata l'impresa, in cui viene seguita e poi anche in qualche caso distribuita. Si fanno amanti anche il film dei Taviani, è un film importante perché racconta come delle persone che soffrono all'interno dei carceri riescono a trovare una forte riabilitazione, quasi il desiderio di evasione attraverso la cultura proprio e questo è un dato importante. questa parola cultura noi la pronunciamo spesso, ma molto spesso non si pronuncia nelle aule dove avrebbe invece bisogno di essere capita e sostenuta, parlo delle aule dove si cerca poi di fare delle leggi dove la cultura dovrebbe essere al primo piano del nostro paese. Noi viviamo di una percentuale enorme, nel 70% dei beni culturali del mondo, abbiamo l'opera, abbiamo il balletto, abbiamo il cinema, il cinema anche con la lingua italiana che nel mondo ha una percentuale molto limitata come diffusione, però non esiste un regista americano che non abbia amato il nostro cinema, che non abbia nessun repertorio, la visione di tutto, il neorealismo, con un cinema in difficoltà sempre. Io quando ho cominciato il cinema, 62 anni fa, la prima parola che ho sentito mi hanno detto a Giulia, mi chiamo Giuliano, in romanesco, a Giulia sta l'attenzione, il cinema è in crisi ed era il 1950. Questa parola mi ha inseguito e mi insegue da allora. Ma devo dire la verità, grazie alle invenzioni del nostro cinema, ai Sergio Leone, che insegna come si fa all'Westerno gli americani, aver inventato i film su Maciste, su Ercole, avendo continuato a batterci per un cinema di qualità, siamo ancora vivissimi nel mondo con il nostro cinema. E quindi vuol dire che chi non capisce questo è cieco, chi non capisce questo è solo proiettato a avere il proprio primo piano in televisione. Il politico vuole il primo piano in televisione e quindi non si occupa molto dei nostri problemi culturali. Lei ha avuto la fortuna di lavorare con moltissimi attori, uno fra tanti Gian Maria Volontè. Che ricordi ha? Io sono presidente della associazione Gian Maria Volontè di Velletri, dove lui poi negli ultimi tempi della sua vita è andata a vivere. Gian Maria è indimenticabile, è nel mio cuore e quanto qualcuno dei giovani attori, pensando a lui naturalmente, mi chiede qual è il segreto di Volontè? Io non lo so. So solo che io non ho mai ripetuto un ciak con Volontè dicendo facciamone un altro, perché la prima era sempre favolosamente buona, perché lui viveva il personaggio sempre, dentro al film, tra le quinte, nelle pause, nelle notti, per tutta la lavorazione del film lui era quel personaggio. Io ho avuto la fortuna di aver vissuto con lui due personaggi positivissimi, come era il Bartolomeo Vanzetti o come era Giordano Bruno, dove era una vittima del potere, dell'intoleranza. E lui viveva questo con grande orgoglio, con grande sofferenza. Certamente quando poi nel film doveva fare il duro e il cattivo, mi dicono i miei colleghi che bisognava evitarlo, però io non lo so. Io so solo che era un meraviglioso amico, un compagno d'avventura indimenticabile e poi ci conoscevamo anche fuori del sette, di tanto in tanto lo incontravo.